I rappresentanti ufficiali delle repubbliche popolari di Donetsk e Luansk ai processi di pace di Minsk hanno sollecitato l'Ucraina a rispettare le disposizioni dei trattati sulle procedure speciali di autogoverno, in particolare in alcune zone delle repubbliche del Donbass. Le autorità hanno chiesto che Kiev riprenda i regolari relazioni economiche con le regioni, mentre il regime centrale invece richiede che le repubbliche proclamatesi indipendenti accettino la sottomissione al governo centrale. Washington e i suoi alleati stanno tentando di forzare un cambio di governo nella stessa Russia, sfruttando lo strumento di guerra delle sanzioni economiche punitive ed attaccando deliberatamente l'economia russa, indebolendola nel complesso e grazie alla manipolazione del prezzo del petrolio. Questa constatazione di chiarezza solare attribuita al capo dell'agenzia di intelligence estera russa. Mikhail Fradkov, ex primo ministro della federazione, ha aggiunto martedì una sua intervista a Bloomberg che è impossibile non notare questo desiderio di piegare la Russia attraverso l'economia. 200 persone sono state arrestate dalla polizia di New York durante le proteste che si sono protratte in seguito la decisione del gran giurì di non rinviare a processo gli ufficiali coinvolti nell'uccisione per soffocamento di Eric Garner, l'uomo nero disarmato ucciso a New York a luglio. Il canale ABC News ha citato fonti interne alle forze di polizia i quali riferiscono che molti degli arresti sono stati eseguiti poiché i manifestanti hanno rifiutato di sciogliere la protesta e sgomberare le strade. Le dimostrazioni si sono tenute nel centro di Manhattan. La parola d'ordine è stata non c'è pace senza giustizia. Non sono inoltre mancati riferimenti alla mancanza d'aria sia relativamente alla tragica morte di Garner. Sempre su questo tema a Phoenix un altro ufficiale di polizia statunitense ha ucciso con colpi d'arma da fuoco un afroamericano martedì sera. Le autorità cittadine hanno detto che il poliziotto ha sparato perché convinto che la vittima stesse impugnando una pistola. Pistola che si è poi rivelata essere nient'altro con tubetto di medicina. Continua quindi la cadena di assassini da parte delle forze dell'ordine nei confronti della comunità afroamericana.